Non ne ho voglia è la risposta del primo figlio del Vangelo di questa domenica, ma non ne ho voglia è la risposta di ciascuno di noi quando vogliamo rimanere in superficie, quando ci lasciamo andare al peccato, oppure quando non ci vogliamo far toccare dalla responsabilità e dalla grazia. Ma quel non ne ho voglia è lo spazio per un cambiamento, è lo spazio per far operare la misericordia di Dio ed è quello che è avvenuto nel Vangelo. Il primo, superficiale, poi si fa toccare dall'amore del Padre. Il secondo, troppo ripiegato sul suo ruolo e sull'etichetta di cui era rivestito, alla fine non riesce a fare il suo compito. E allora vogliamo in questa domenica imparare anche noi da questi due figli ad affrontare la vita quotidiana, vogliamo anche noi imparare a non lasciarci andare a risposte istintive e superficiali. Alle volte non è detto che quello che sentiamo di fare o proviamo superficialmente è la verità. Abbiamo bisogno di andare in profondità ed è solo in profondità che incontriamo l'amore vero di Dio. E alle volte potremmo anche evitare di lasciarci andare in grandi professioni, in grandi impegni, che di fatto sono soltanto quell'istinto naturale a voler avere un premio di produzione. Quello che conta non è il premio di produzione, ma la capacità di farsi toccare dalla misericordia e dall'amore di Dio. 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 Dio.